E' uno dei progetti più prestigiosi lasciati in eredità dalla vecchia giunta alla nuova giunta, preceduta dal sindaco Luca Serfilippi. Il progetto di ristrutturazione, di innovazione e di aggiunta della biblioteca federiciana firmato l'Archistar Cucinella. Cucinella che tra l'altro tra poco sarà in video a Fano per un importante appuntamento con il centro studi Vitruviani. Sindaco, un'eredità pesante che al momento però è incerta. Che cosa sta per decidere? In maniera molto trasparente ci tengo a dire che è una grande opera pagata e finanziata per quanto riguarda la progettazione che è arrivata a livello esecutivo dal Corrado Montanari, che ringrazio, ma che l'amministrazione uscente, al di là dei 2 milioni e mezzo di finanziamento del PNRR, non ha trovato i restanti 8 milioni. C'era un bando che sono mesi che doveva essere pubblicato per reperire questi 8 milioni da fonti private, non è stato fatto nulla, quindi al momento mancano 8 milioni di euro. Come giunta a martedì abbiamo dato mandato e dentro venerdì prossimo verrà pubblicato questo avviso pubblico per la quale ci auguriamo di trovare sponsor privati a livello nazionale e internazionale, perché questa è una grande opera per la nostra città, una grande opera per la nostra regione e per il nostro paese. Abbiamo un architetto di fama internazionale come Cucinella che ha sposato il progetto di Fano e quindi da amministratore cercheremo in tutti i modi di finanziare l'opera sapendo che i tempi sono veramente stretti. Però bisogna raccontare le cose come stanno perché al di là del progetto esecutivo che è pronto mancano 8 milioni di euro. Quindi noi come giunta il primo atto, uno dei primi atti che abbiamo voluto fare è quello di dare mandato per trovare questi 8 milioni, altrimenti a fine mese, perché starà fuori tre settimane, dovremo valutare eventuali altre azioni. Purtroppo c'è anche il rischio che perdiamo il finanziamento perché i tempi sono stretti e non ci sono le risorse economiche all'interno del Comune per realizzare quest'opera. E' lungomardi, Sassonia è ancora in preda ad un cantiere aperto che ancora non si vede appunto una soluzione. Com'è la situazione e che cosa intende fare l'amministrazione comunale? Abbiamo preso di petto il problema perché la situazione non era così rosea come ci avevano prospettato in campagna elettorale. Siamo intervenuti immediatamente per evitare che le persone continuino a transitare lungo viale adriatico. A fine della prossima settimana la passeggiata sarà riaperta, usufruibile anche dai portatori di Endica, per fare in modo che non ci sia più questa situazione di poca sicurezza per chi transita nell'area. E' vero che purtroppo il cantiere non potrà essere ultimato definitivamente prima della stagione balneare. Mancano dei materiali, manca la pavimentazione della gradonata, quindi dovremo aspettare purtroppo la fine della stagione balneare per poter completare l'opera. Quindi dalla prossima settimana sarà usufruibile la passeggiata, la piazza sarà ultimata senza l'illuminazione e la parte coreografica legata ai giochi d'acqua e allo stesso modo sarà interdetto il passaggio nella zona che era definita, chiamiamola parchetto, quella diciamo lato sud della piazza. Però sarà usufruibile la parte prospicente, il mare, che si accede dalla gradonata appunto verso il mare, per fare in modo che si arrechi meno danno possibile sia agli esercenti della zona che agli usufruitori dei bagni lì vicino.